Questa è una pizza e per una settimana posso mangiare solo questo Buongiorno Giorno 5 Oggi ci troviamo a Genova e l'obiettivo è attraversare l'Italia in 7 giorni Ma adesso prepariamoci perché tra pochissimo si parte per una nuova città Valigia pronta e partiamo Ma prima Mangiamo Questa qui mi incuriosisce Numero 10, la pizza Grazie Questa pizza sembra incredibile Sono curioso di assaggiare questa ricotta blu E' arrivato il momento di assaggiarla Il nome di questa pizza non è una cosa solita Voto 10 Questa volta il cornicione lo finisco Andiamo Adesso andiamo nella prossima città Biglietto comprato, adesso si parte per la prossima città